Dopo due rinvi eccoci finalmente in Fiera Milano Voglio portarti insieme a me all'interno di questa fiera Sfruttiamo questa opportunità qua per trovare piccole realtà Piccole aziende, prodotti particolari, soluzioni giuste da valutare in casa propria Eccola qua, la Manhattan Lo Manhattan Questa è proprio una ventilazione, diciamo, cucita a misura proprio per esigenze di riqualificazione Che vanno chiaramente a pulimentare l'involucro con il cappotto Una soluzione di questo tipo, quindi io ho il gruppo ventilante all'esterno Quindi qua c'è il mio serramento Esatto Qua c'è il gruppo ventilante, ho il mio cappotto Ovviamente che vado a rasare, mimetizzare Mi rimane nel serramento, quindi c'è un po' di ventilazione In questo caso impatti, impazzata, completamente annullati Poi, novità, quella che mi accennavi Come ho già documentato in alcuni video sul canale Questo è un prodotto davvero particolare Già commercializzabile, già acquistabile Assolutamente sì Grazie 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 Grazie